Emozie, sono sannimente, ci urbella, e mi hanno diminuito le spiega e non è tutta cosa, e non è se vede a dire che se avete potuto cercare di andare. O verso l'8 e un quarto, sto rimbrando, e prima un danno si può mettere, e arriva un furgone di carro, ma mobili e pesca per l'emergenza ucraina. Certo, di carità sospettavamo delle famiglie dell'Ucraina, cioè vettiamo mamme con figli, perché gli sborrano, e abbiamo in guerra, insomma.